Allora, buongiorno. Faccio questo video per raccontarvi cosa mi è accaduto alla scuola di Forio e per manifestare la mia preoccupazione per come questa scuola viene attualmente diretta. Mi sono anche scritto due appunti per cercare di non essere troppo lungo, perché poi quando si racconta qualcosa si rischia di diventare lunghi e noiosi. Praticamente venerdì mi rego insieme alla mia ex moglie alla scuola di Forio per chiedere il trasferimento di nostra figlia da una sezione ad un'altra ed incrociamo per caso la dirigente e la dottoressa De Vita nelle scale sotto la segreteria e veniamo gentilmente ricevuti nel suo ufficio per manifestare il nostro problema. Alla dirigente facciamo presente le motivazioni per le quali nostra figlia non riesce ad ambientarsi ed essere serena nella classe dove era capitata ed anche che nostra figlia e noi genitori preferivamo la lingua tedesca piuttosto che la lingua spagnola anche perché facendo l'albergatore a Ischia ci sembrava molto più coerente e utile che nostra figlia studiasse il tedesco piuttosto che lo spagnolo. La dirigente ascolta e condivide sia le motivazioni che hanno provocato disagio a nostra figlia in tale classe che non sto a dire perché non riguardando solo noi o nostra figlia non mi va di spiattellare cose pubbliche che peraltro poi non sono carine, non sono utili e dicendo poi alla dirigente di condividere pienamente questa volontà di far studiare tedesco alla bambina. In nostra presenza quindi predispone il cambio dalla prima E alla prima A scrive tutto su un foglio di carta, nome, cognome, il trasferimento chiama anche un docente che non conosco di nome Paolo comunque annunciandogli il cambio e si sente proprio chiaramente dalla cornetta dire a questo docente sì 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 Brigida Iacono è ok. La dirigente poi ci saluta chiedendoci di inviare un'email formale dove avremmo dovuto motivare la richiesta del cambio evidenziando però solo la volontà del cambio di lingua e dicendoci di fare entrare lunedì mattina già Brigida nella nuova classe prima A. Dopo qualche ora vengo chiamato in albergo dalla dirigente e dalla dottoressa De Vita molto agitata la quale letteralmente inveiva contro la mia ex moglie offendendola più volte che a suo dire era colpevole di aver chiesto di farsi inserire su un gruppo whatsapp delle mamme di questa nuova classe prima A e che invece lei le aveva detto di attendere che lunedì la bambina già entrasse in classe così non succedeva nessun casino perché questo invece aveva prodotto una sommossa di alcune mamme e quindi questo trasferimento non poteva non poteva più essere possibile ricordo tra le offese la mia ex moglie quella di dire ma proprio una cretina non poteva aspettare che lunedì mattina la bambina entrasse in classe quindi già questo ripeto che ci tengo a precisare la mia ex moglie non aveva chiesto nessun nessun inserimento su alcun gruppo di whatsapp ma semplicemente mia figlia Brigida aveva avvertito un compagno che stava appunto nella prima A che si sarebbe trasferita là anche perché comprensibilmente Brigida non voleva entrare non voleva entrare in una classe di punti in bianco lunedì mattina e loro questi bambini poi l'avevano inseriti sul gruppo di whatsapp ma dei bambini appunto non delle mamme questo punto faccio presente alla dirigente che non è accettabile che questo trasferimento non possa avvenire per la ribellione di alcune mamme visto che questo trasferimento era stato accordato perché fattibile, legittimo, certamente non per aver ricevuto un piacere un favoritismo che peraltro non abbiamo mai pensato di chiedere a quel punto non solo mi viene chiesto se mia figlia avesse avuto qualche problema con qualche bambina di questa classe prima facendomi anche nome e cognome poi figuriamoci di una di queste bambine praticamente lasciandomi intendere che la madre di tale bambina si fosse poi opposta al trasferimento io questo non lo so se ha avuto qualche screzzo mia figlia tra bambini ma vi pare che seppure ci fosse stato un litigetto fra bambine questo poi doveva diventare il motivo per la quale mia figlia non potesse più cambiare sezione, dimenticando poi in un attimo le problematiche e le motivazioni che erano state sposate è stata la dirigente stessa non finisce qua la dirigente mi dice che non solo questa mamma ma anche altre mamme avevano reclamato io intanto non riesco a capire come una dirigente che prenda questa decisione legittima perché se poi non lo è mi deve spiegare perché l'aveva presa non se ne può uscire peraltro mettendomi per iscritto alla nostra e-mail che il trasferimento non si può fare per i reclami delle mamme che a questo punto dirigono al posto su di quanto vi sto raccontando chiedo spiegazioni nonostante ci sia stata la telefonata anche via e-mail alla dirigente e questo scambio di e-mail poi termina con la dirigente che dice che c'è stato un sotteggio e che quindi il cambio non si può fare e poi non si deve cambiare classe per andare con le amichette alla dirigente rispondo in ultimo che questo è un errore, un grave errore perché non si cambiava certamente per andare con le amichette e lei lo sa bene quali erano le motivazioni e questa motivazione è falsa tant'è che abbiamo chiesto il nulla osta per trasferire nostra figlia in un'altra scuola abbiamo preso la decisione di trasferirla perché ovviamente mia figlia è rimasta ancora più turbata di questo cambio di decisioni, di tutta questa vicenda ma sapete poi mentre pensavo al da farsi cosa mi ha tolto ogni dubbio la cosa è questa che non vi ho detto prima che quando la dirigente mi ha chiamato in albergo oltre ad aver offeso la mia ex moglie poi per giustificarsi con me per questo cambio di decisione ha letteralmente sbroccato dicendo io da questo scoglio me ne devo andare anche in napoletano e peraltro io da questo scoglio me ne devo andare con queste mamme che sono quattro offese anche lì che non derano niente a fa' questa cosa peraltro da me è stata ripresa anche in una e-mail e poi qua sono tutti una massa di ignoranti allora cara dottoressa De Vito ci usi la cortesia di prendere in fritta questa decisione di lasciare l'isola noi ne abbiamo le tasche piene di persone che vengono da fuori che non perdono occasione di dispreziare Ischia e gli Ischitali qui non perdono tutte le trovi che vengono da fuori che non perdono